c'è sindy e c'è l'altra sindy l'altra sindy è il ruo di oggi venerdì 10 luglio 2020 sono 20 minuti amrap 5 pull up 10 floor press e 15 american swing i pesi le scalature sono sulla grafica qui di fianco essendo l'ultimo bot della settimana vi auguro un buon fine settimana e noi ci vediamo lunedì per un'altra settimana insieme su cper tv ciao buon weekend